Quindi hai deciso di aprire questo video? Beh, devo dirti che hai una grande responsabilità perché all'interno di questo video c'è una sorpresa solo per te Ti devo parlare di una cosa fin troppo importante Molti di voi lo aspettavano da tempo, da tantissimo E io sono rimasta in silenzio tutto il tempo Ma finalmente lo ammetto e è arrivato quel giorno dove io devo parlare e ammettere tutto E' successa una catastrofe ed è tutta colpa mia Questo gioco per entrare nel mio fume Oh ma basta eh Stavo parlando io col pubblico, devo dirgli una cosa Sì ma stai perdendo un sacco di tempo Sì che sto perdendo tempo, ma aspetta, lascia almeno la possibilità, che ne so, di parlare e spiegare Basta, vai via, vai via Ragazzi siamo qui per annunciarvi che è uscito il mio nuovo fumetto, non c'è due senza me Ed è un'inventura incredibile dove io mi scambierò con la me della vita reale e i miei amici mi aiuteranno Ebbene sì ragazzi so che lo spettavate tantissimi e finalmente è uscito in libreria, direttamente in libreria Trovate su Amazon il mio nuovo fumetto, non c'è due senza me Voglio vedere se voi riuscite a dirlo in libreria e voglio vedere cosa mi rispondono Ci tengo a precisare che non c'è bisogno che comprate i vecchi libri per leggere questo Anche perché ha una storia completamente diversa da quelli precedenti E so che i miei veri fan, i miei super fan non vedono l'ora di comprarlo e leggerlo Lo trovate in tutte le librerie d'Italia e anche su Amazon, vi basterà cercare su Amazon e dire, chiedere, non lo so Ehi Amazon dimmi dov'è non c'è due senza me di Robby Ovviamente è un nuovo fumetto e non vedo l'ora che voi mi raccontate e mi date un vostro parere nei commenti Potete scandalizzare anche questo QR code per andarlo a prendere su Amazon e oppure prendetelo in libreria Volevo comunque ringraziarvi per il vostro supporto e spero che apprezzate molto questo nuovo libro Che per voi che amate Roblox vi piacerà da morire Detto ciò grazie orsi e spero che questa sorpresa vi sia piaciuta E se sei un orso fino alla fine prendi il video e lo condividi Vediamo chi nei commenti l'ha condiviso, aspetto un vostro commento